In questo numero del Salusti G, autoispezioni della FIMG nelle guardie mediche per un libro bianco antiviolenze. Gimbe, la nota di aggiornamento del DEF 2017, conferma il trend di definanziamento nonostante il PIL in salita. Una morte su 12 è evitabile con mezz'ora di sport o facendo le pulizie in casa. Raccogliere segnalazioni sulle criticità delle sedi di continuità assistenziale italiane per comporre un dossier che sarà messo a disposizione del Ministero della Salute. Una sorta di guida per verificare le condizioni attuali in cui operano le guardie mediche per poter avviare azioni di miglioramento. Nasce con questo obiettivo l'iniziativa aperta a tutti i medici di continuità assistenziale, ispezione da dentro, avviata dalla FIMG, settore continuità assistenziale, a pochi giorni dall'ultima aggressione a una dottoressa in turno di guardia medica violentata nel Catanese. Oltre 200 le segnalazioni arrivate in meno di 24 ore, soprattutto da donne, 150 sugli attuali 217 contatti. L'economia italiana migliora, ma i soldi per il Servizio Sanitario Nazionale restano pochi e il definanziamento sta raggiungendo livelli allarmanti. Nel 2020 i fondi destinati alla sanità vengono ulteriormente ridotti al 6,3% del PIL, ben al di sotto della soglia di allarme fissata dall'OMS. È la denuncia della Fondazione Gimbe, che ha analizzato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri. Mezz'ora di esercizio fisico quotidiano per 5 giorni a settimana basterebbe a prevenire una morte su 12. Un effetto salvavita che non vale solo per lo sport vero e proprio, ma anche per i mestieri di casa. Passare all'aspirapolvere o lavare i pavimenti, come pure andare a piedi al lavoro, potrebbe garantire la giusta dose giornaliera di movimento necessaria a proteggere il cuore e guadagnare il nogevità. È la conclusione di un maxistudio canadese che ha analizzato dati di oltre 130.000 persone in 17 paesi del mondo.